da come siete? Bluestar TV documenti un attimo solo io sono un libero cittadino Francesco ci stanno impedendo Francesco riprendi tutto ci stanno impedendo di entrare all'inva e mi hanno definito persona sgradita vorrei sapere perché questo è diritto all'informazione io volevo parlarle con calma parliamone pubblicamente perché ha paura di parlare? io le sto chiedendo qual è la sua intenzione di compiegare ma te ne sono due 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 perché è casa nostra e chiediamo se lei può dire ecco poi mi invitano ad andare in una stanza per parlare con calma ho detto no io non mi ritiro non mi rinchiudo in nessuna stanza io parlo pubblicamente davanti